Una certa idea di città è stato l'appuntamento con cui Selle, soprattutto la sua rappresentante principale Stefania Monteverde, ha voluto rendicontare sui cinque anni di mandato Carancini per discutere e valutare insieme a tutti i suoi lettori idee e proposte che si possono mettere in campo per valorizzare la città in futuro. È giusto che un amministratore restituisca ai cittadini le ragioni delle scelte che ha fatto, le scelte che hanno impegnato i soldi pubblici, con cui ha amministrato la città. È molto importante che un amministratore possa rendere ragione e l'occasione questa sera è questo per me, rappresentare le scelte che ho fatto, quelle che non sono riuscita a fare, quelle che ho potuto fare insieme ai compagni di questo cammino, di questa avventura. E aver fatto scelte su tre parole chiave, mi sembra sempre poterle rappresentare. Da una parte i diritti, dall'altra le relazioni e dall'altra il servizio pubblico. Su queste tre scelte io credo di aver costruito un progetto che può costruire e che può guardare avanti. L'incontro molto partecipato è stato anche l'occasione per raccontare la coerenza rispetto agli elettori e soprattutto le mille difficoltà incontrate nel dibattere insieme ad una maggioranza molto divisa. E Pierpaolo Tartabini, unico consigliere comunale, traccia un piccolo bilancio. Noi abbiamo la verità di pensare che questa coalizione, questa amministrazione, negli alti e bassi, negli errori fatti, nelle cose positive ottenute, sarebbe stata peggiore senza di noi. E per l'immediato futuro si stanno avvicinando velocemente le primarie di coalizione. È uno strumento in cui abbiamo creduto e crediamo tuttora, ma le dinamiche per come si stanno presentando mi sembra che sono di tutt'altro tipo. Posso dare per certo che non ci sarà un candidato SEL, anche perché noi abbiamo già detto all'intera coalizione in passato, lo abbiamo ribadito, che la logica senza essere fan di qualcuno o contro qualcuno non è questo il senso. Il senso è che quando ci si impegna in una coalizione ci si impegna tendenzialmente salverori madornali per due mandati. Noi crediamo che questi errori non sono stati fatti. Certo, molte cose sarebbero potute fare diversamente.